E tu secondi, questo è punto per la prova di nudi cuccioli, sempre a Torvalianica, nella categoria cuccioli, la formazione, per esempio, anche nella buona prova, Cristiano Pettocchio, la buona rete, apprezzato anche a Cesare Berlini per la latinatria, e Leonardo Borua per due posizioni da podio nella rena triatria. Per le femminucce invece si è aggiudicata la prova benedetta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.